Amici e amiche bentornati, ci troviamo di nuovo qui su Prospectly Manager 2023 Non perdiamo altro tempo, altro video, altro episodio con il Franz, con il Kaiser alla G2R pronto a spaccare il mondo del World Tour pronto a entrare nelle classifiche dei campioni, oh Dio, ci proviamo Oggi ragazzi, video vecchio stampo alla Scalapassi, alla Felice andiamo a correre la classica, le strade bianche non abbiamo grosse possibilità, in una squadra di cui c'è sicuramente uno molto più quotato come Benoît Cosnefoy e Julien Bernard, assolutamente anche Dorian Godon non metto in dubbio che loro siano migliori di noi, però il nostro Franz è un po' un tedesco nel vecchio stampo stente, no, meglio che non lo dico, ci prova, ci proviamo, insomma mamma mia, però vedete, è giusto, è giusto Cosnefoy è sicuramente tra i favoriti con Messe Merti Van Der Poe, con Tadai Pogaccia, con Stefan Kunga, La Philippe, Bettiol Ioannessen, Benili, Simons, il nostro Pippo Pippo Neganna e Genie o Geniez, dipende da come è la pronuncia del Lussemburgo andiamo avanti, noi saremo al 100% con l'obiettivo di fare Gregari e noi al 100% non faremo i Gregari diciamo che non saremmo noi e non saremo noi a non dare un aiuto avete visto che qua sopra è comparso il nome della GDR con davanti Cosnefoy, Godon e poi il nome del Kaiser quindi siamo il terzo migliore potrebbero darci la possibilità di non romperci le Spelotas e dirci, beh, sei un libero battitore veditela un po' tu io accetterei molto volentieri il ruolo di libero battitore ve lo dico sinceramente e vediamo cosa riusciamo a fare vediamo sono 184 km ovviamente il pavè è tutto di una stella perché se no manco ci provavamo non credo che questo ci darà problemi Felice Scalapassi l'ha fatta tre volte con lui l'abbiamo fatta tre volte mi sembra siamo arrivati una volta a secondi o due volte a secondi quindi non è importante avere un valore di pavè alto perché vedete che Ioannes a 69 è comunque meglio di Benili e di Cosnefoy addirittura perché è un valore più alto di collina conta di più la collina e la pianura anche se in realtà di pianura ci sono pochi tratti poi è molto spezzettato qua ragazzi sarà corsa dura sarà corsa vera inizieranno a scattare a scattarsi in faccia come dei pazzi dobbiamo avere resistenza molto alta dobbiamo avere resistenza molto alta dobbiamo avere un bel più sarebbe un più 5 sarebbe chiedere credo troppo abbiamo comunque la forma quasi al top perché ci stiamo preparando per una corsa importante che arriverà un pelo più avanti un pelo più avanti ma diciamo che entriamo in una zona in un momento in cui il nostro Felice è scusatemi vedete ho sbagliato il nostro Franz è deciso a fare grandi cose il caricamento è sempre imbarazzante anche su un ssd andiamo pronti? partenza? più uno meglio ah libero battitore fuga nei 120 finali ma ci chiedono di finire tre primi 30 noi non faremo la fuga ma cerchiamo dei vari tre primi 30 io a questo punto stoppo tutto e metterei nessuno che vedo cavoli meno tre Bernard meno quattro cose ne fosse quelli che abbiamo le maggiori probabilità di vincere allora mi prendo mi prendo Bernard gli chiedo di venire con me gli chiedo di venire con me io chiedo al mio Kaiser di risalire molto velocemente la china e di stare nelle prime posizioni subito subito ora ci saranno alcuni attacchi anche se i nostri compagni di squadra che osamentis vuole partire può farlo tanto non arriverà praticamente mai la fuga arriva alle salve anche la fuga a chilometro 3 capito un po' prestino eh signore qua ce la prendiamo con calma senza problemi ce la prendiamo con calma estrema senza problemi allora ottimo questo ci dà un più tre in resistenza che ci spara 75 grinta 74 not bad qua porta il pavè del Kaiser a 75 avevo completamente rimosso guardate come sono sconnesso con la realtà ho appena registrato un altro episodio di poste che il manager della liquigas e mi sono completamente sconnesso col fatto che Kaiser invece il pavè è una roba importante è chiaro non è importante alle strade bianche ma ok me ne ho completamente rimotto collina va a 79 media montagna è 72 ma la media montagna non viene contato ho caduto già per Peyo Bilbao ok anche per Borgadò vedete che sono ehm sempre tutto a livello 1 mh ci affaticheremo sicuramente di meno la cosa importante come in tutte le volte ragazzi ve lo dico non smetterò di ripetervelo perché tanti di voi siete nuovi arrivate a caso sui miei video intanto vi do benvenuto se dovesse essere così chiaramente io vi esorto quando fate questo tipo di corsa guardate qua cosa è successo vedete quando fate questo tipo di corsa non restate mai indietro perché poi succede che dovete fare il triplo della fatica per rientrare quindi noi sfruttiamo il lo sgusciamento nel 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 gruppo e restiamo nelle prime posizioni ora non è importante adesso chiaramente al chilometro non so quando perché non c'è scritto quando arrivano questi campioni nella moda questi questi strappi comunque a un terzo a un quarto della corsa fatta vedete come sono già molto stanchi anche cosa ne fa il meno 4 gli ha ammazzato le gambe e guardate qua che 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 pendenza dura queste pendenze dure provocano un diciamo assottigliamento del gruppo più che altro la strada stretta la strada stretta e le pendenze elevate provocano la chiusura del gruppo e se noi rimaniamo impigliati dietro questi poi in discesa vanno e adesso recupera guardate come è stretta guardate come è stretta la strada devi stare davanti devi stare qua perfetto qua va benissimo però chiederei sinceramente a verde di andare a fare un po' di corsa dura più che altro perché 4 minuti e 40 non mi spaventano troppo ma sono 4 in fuga più 2 dietro quindi potenzialmente 6 io credo che l'alpecine e la ef da un certo punto dovranno venire a tirare ma non mi fido quindi spreco uno dei miei compagni di squadra che mi è stato dato la possibilità di gestire quindi ragazzi la gdr punta forte punta forte sul kaiser annusano di aver preso un ciclista con un certo tipo di potenziale noi non restiamo mai indietro mi raccomando con bernard ci portiamo avanti sprechiamo un po' di energia adesso per non sprecarne il doppio dopo ripeto non smetterò mai di ripetervelo sta cosa nelle classiche di pavé nelle classiche dove ci sono i strappi e la strada è stretta stare davanti è fondamentale per esempio non è fondamentale in una tappa di montagna in una tappa di montagna di un giro d'italia di un tour de france di una volta basterà mettersi davanti o meglio vicino ai migliori la scrematura quindi il fatto che la salita magari diventa pesante e quindi poi la gente piano piano molla ecco questa scrematura andrà a sciogliere molto molto tranquillamente tutti i vari tutti tutti tutto il gruppo rendendolo meno compatto meno gonfio di gente quindi ci permetterà di essere davanti prima qui siamo con 161 persone sere siamo in bloccate sere siamo bloccate là dietro ragazzi poi 12 3 strappi ci potremmo un minuto e mezzo più indietro e poi devi tirare e poi devi sprecare tante energie che avesse potuto risparmiare quindi molto importante ragazzi il vantaggio era cresciuto fino a 5 minuti ora chiedo a Bertè di dare uno strappettino importante a 75 in salita io sinceramente lo chiederei anche a Menthies di dare una mano così che si affatichino si affaticano sì in due ma un po' alla volta un po' per un quindi si danno una mano mettiamo per 4 la salita per Montalcino non è troppo pesante ma è lunga vedete che si stanno sprecando molto il Kaiser risponde molto bene anche il Vendrame è messo molto bene qua vicino potremmo sfruttarlo Godone è andato addirittura a prendere l'acqua quindi tanta roba noi potremmo sfruttare anche l'attacco la discesa acrobatica anche se per poco potremmo farlo in discesa io vi ricordavo che l'arrivo fosse fatevi vedere un attimo com'è l'arrivo ragazzi ah è leggermente in discesa sì perché noi dobbiamo arrivare da qui ok ora stop un attimo perché devo tornare esatto non ho avuto bisogno di stoppare rimetto la visualizzazione come piace a me due volte f6 perché se lo stesse chiedendo è arrivato Godone a dare l'acqua tutti noi siamo un po' più indietro ma siamo comunque tra i primi quindi mi va bene siamo circa metà corsa adesso arriverà un tratto lungo di 6 km e 2 di pavè di pavè di sterrato noi cerchiamo di stare davanti guardate come si stringe la strada eh niente ragazzi qua si stringe tanto se qualcuno inizia a fare corsa dura magari un po' più avanti siamo fottuti ve lo dico siamo fregati siamo fregati perché poi rimaniamo indietro poi guardate come si è allungato il gruppo guardate come si è allungato il gruppo è lunghissimo ragazzi basta una mini discesa un mini strappo e se sei indietro non controlli più la scala la corsa il vantaggio è stato già ridotto tantissimo a due minuti a due minuti e mezzo posso chiedere sinceramente ai miei di diminuire a 70 più che bene così loro non si affaticano troppo non ci facciamo affaticare troppo nemmeno noi questo è un tratto lungo e di sterrato ma ragazzi con 73 di pavè ma neanche con 65 questo fa paura perché è una stella non fa non fa troppa differenza non fa troppa differenza non è come la penultima la penultima corsa che abbiamo fatto con la San Michel l'anno scuola la scorsa stagione che è la non mi ricordo manco il nome che aveva dei tratti di pavè a 4 e mezzo 5 ok primo attacco di Carapaz amico sei partito un po' presto a 93 km dall'arrivo Carapaz colui che impedì a felice di fare la doppiata doppiata il VCRG il Tour de France prova uno scatto improbabile noi lo lasciamo andare perché non siamo stupiti come tutti gli altri poi continuano ad esserci cadute dietro la cosa mi preoccupa quindi noi stiamo avanti dove c'è meno casino dove possiamo gestire meglio la situazione vediamo qualcun altro è partito Schmidt Carapaz è stato già ripreso cosa mi sa o forse no attacco non ha senso no è andato Carapaz a prendere ancora un minuto deve faticare tantissimo per andare a recuperare quelli davanti e poi io bassa che aumento un attimo qua metto 75 e gli andiamo a riprendere va bene va bene Carapaz spreco un sacco di energeti auto elimini io sono solo che contento io sono solo che contento siamo giunti a poco più di metà corsa siamo a sì ormai già superato da un po 75 anzi 77 km all'arrivo 75 per la la testa della corsa altro tratto di pavè ecco qua succede una stronzata il gioco non chiedetevi perché non ci fa più essere capitano cambia da solo in corsa nonostante noi ecco vedete io in questo caso divento gregario non ho più controllo di nessuno davanti non ho più controllo di nessuno dietro non posso più chiedere a me di tirare non posso più non posso più chiedere a me di gestire le distanze io in questo momento gioco mi ha tolto il controllo della squadra perché il direttore sportivo ha fatto la stronzata di pensare che un cosnefo a meno 4 sia più possibile papabile di vittoria di buon risultato rispetto a noi noi abbiamo delle statistiche nettamente inferiore a livello generale e magari siamo comunque non il massimo però credo che non arrivi a 75 cosnefo di resistenza e alla lunga si nota e cosnefo guardate che è già sotto è di tanto anche guardate la barra verde non ha senso questo ci ha tolto la squadra di mano e niente saremo da soli il Kaiser rimane da solo completamente da solo va bene noi non seguiremo anche perché poi togliendoci l'obiettivo cioè togliendoci la squadra facendoci diventare gregarie non ci cambia l'obiettivo di tira per tira per 20 km in testa al gruppo non ce lo dà come obiettivo ora guardate guarda eccola rido 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 guardate cosa è successo primo primo strappo noi siamo stati davanti e tutti gli altri dietro lo strappo è minimo e stanno correndo stanno correndo tanto ma guardate qua guardate qua fortunato rubio velasco che è una art simos devono correre tutti devono correre tutti guardate che ci hanno ridato in mano la squadra vabbè io sto come i pazzi sta roba qua la devono cambiare perché uno non può fare una corsa in questo modo non può gestirsi in questo modo una corsa no 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 tanti difetti tanti difetti che devono essere assolutamente corretti comunque noi gestiamo la corsa mi sono messo per chi se lo chiede in in cursore dello sforzo cioè in mantenere la posizione ma cursore dello sforzo 90 perché a breve inizieranno ad andare giù a cannone a cannone proprio e faranno degli strappi messi matti noi stiamo seguendo lui faranno degli strappi quali provocheranno delle corse vediamo che era pazzi di davanti tutta la fatica che provocheranno dei delle possibili dei possibili strappi nel gruppo quelli che sono già successi se noi facciamo cursore 90 noi li seguiamo spaccheremo barra rossa ma come tutti gli altri ora cos ne fa è ancora capitano perché è riuscito a rientrare insieme a Bertè e dietro ho la possibilità di gestire i ragazzi dietro cosa me ne faccio niente e l'acqua me la devo andare a prendere io se non va a Bertè Bertè tra l'altro tra poco ci saluterà guardate qua la barra gialla è andato ecco che qua iniziano ad attaccare Ulissi e Carapaz Ulissi e Carapaz poi ce ne sono altri sono i sei in fuga davanti mancano qua 50 km ok inizio ad avere qualche dubbio ma non troppe foratura di Caruso foratura importante sono più o meno rientrati poi vanno giù poi scappano ancora poi rientrano poi devono fare sacco di fatica in più guardate cosa ne fa quanto è più infaticato non arriverà in fondo nessuno dei nostri compagni potrebbe esserci d'aiuto poi in questo caso noi dobbiamo assolutamente tenere d'occhio la corsa noi dobbiamo tenere d'occhio Taddei Pogra c'erano devi andare a tenere d'occhio dove è finito Taddei scusate mi si mette underpearl lo chiamo messi mi piace e vedete qua sono tutti già spezzati devo andare a prendere l'acqua da solo quindi aspetterò adesso a prendere l'acqua che non c'è nessuno dei miei la tengo per me però guardate come ho già perso vedete come ho perso il gruppo dei migliori per prendere un po' d'acqua per prendere un po' d'acqua ho perso il gruppo dei migliori quindi devo necessariamente correre guardate guardate cosa è successo guardate dove è finito underpearl è già scappato devo andarmene io a riprendere questi non vanno devo spaccare un sacco di energie e la corsa è così ragazzi la corsa è così vediamo se riusciamo a rientrare vediamo se qualcuno la Filippo Bettiol che sono i favoriti vanno a spingere la vedo difficile beh Pogaccia è rimasto indietro anche lui però eh Pogaccia ora probabilmente lo rientriamo vanno a poi il frigo Ronsens Battistella Yates se giocheranno loro alla vittoria non puntavo la vittoria sinceramente a questa strade bianche ma puntavo a fare bene e vediamo che Pogaccia chiede il cambio Benini va a tirare quindi io sono più che contento per prendere l'acqua signore per prendere l'acqua ragazzi abbiamo quindi un minuto e mezzo dalla fuga quella vera che è quella con dentro con Van Der Perl eh sì sarà complicato rientrarci ragazzi mamma mia guardate quanta fatica stavo già facendo noi potremmo anche andare a spirciare come sta Pogaccia sta come noi sta letteralmente come noi se non peggio peccato porca ma l'acqua non poteva non prenderla avrei potuto prenderla dopo in una sezione di pavesso non pirla io eh questo è vero questo è vero stanno andando a tirare alcuni non tutti vediamo se il vantaggio sta diminuendo no sì sta diminuendo però si sono spezzate anche davanti e questo mi dà anche l'obiettivo fuga godo un po' godo un po' assolutamente guardate cosa ne fa dove gli ho già dato tre minuti quasi va bene ok frigo e gossensi sono staccati ok ho bisogno di sapere che c'è in fuga vender poi gli esbatista poi c'è arriva a Catania con Sonny e Barceló la vedo dura però una top 30 la vedo posti dovevo assolutamente fattibile ragazzi una top 30 io ve lo dico ok alla Philippe prova uno scatto a 20 km dall'arrivo potremmo anche provare e pensare di seguirlo potremmo anche provare a pensare di seguirlo siamo arrivati addosso ai migliori vediamo se riusciamo a rientrare con loro abbiamo 40 38 secondi poi non c'è più nessun altro davanti perché noi adesso siamo dati come A1 come quelli indietro non come la fuga diciamo c'è con le pinzuto manca ancora un bel po' di trauma ma c'è ancora corsa vera da fare qua ragazzi ah che bella che bella che bella che è la strade bianche che bella che è la strade bianche prova McNulty a scappare via e poi c'è Battistella ancora davanti è dura è qua Battistella la prova è lunga si potrebbe potrebbero portarla avanti ma io sto con i migliori ragazzi io voglio stare con i migliori vedete che qua inizia a lampeggiare di rosso anche a 91 guardate che iniziano a fare gli strappi cattivi qua Kaiser deve prendere veramente per le corna questa corsa e provarci può andare tutto per tutto ragazzi scattano un po' caccia scatta Kung io non posso scattare queste condizioni però devo seguire no devo provarci ragazzi per quanto mi spezzerà le gambe questo attacco e poi andare giù e poi andare giù e poi andare giù per forza 90 andare in posizione aerodinamica per un attimo può rifiattare un secondo perché quasi stanno andando a velocità che il Kaiser non possa sostenere il Kaiser stava facendo molta fatica a sostenere Kaiser mille strappi non ci dovrebbe essere più in avanti nessuno alla Felipe Johansen Simons e Battistella Bettiolo era già andato Van der Poel è droppato tanti occhio non serve andare così veloce per arrivare tra i primi 30 quantomeno no per vincere magari sai ma mancano 9 km bisogna stare attenti siamo arrivati le fasi finali di questa corsa dobbiamo veramente prendere tutto ciò che abbiamo Kaiser veramente Kaiser Franz devi fare la magia dove è possibile dove è possibile Franz where it is possible devi andare giù a cannone a cannonau proprio a cannonau e qua stanno già andando a cannone ragazzi Kung sta cercando di rientrare Kung sta cercando di rientrare in tutti i modi tra i fuggitivi qua non si vede più niente andiamo qua ok andiamo giù in discesa forse questo ci fa rifiattare un secondo qua secondo me ci stacchiamo eh a breve ci stacchiamo manca l'ultima discesa quando gelino io Franz recupera quanto più possibile di barra di barra gialla ti prego perché qua c'è un obiettivo Johan senna la Filippe Simons sono i tre davanti poi siamo in 8 qua dietro quindi la top 30 hai voglia qua c'è una top 10 che stiamo guardando ultimo chilometro qua ci siamo qua dobbiamo andare tutto per tutto ragazzi non è l'ultimo chilometro occhio perché qua dall'ultimo chilometro ma manca un chilometro e 6 quindi non è l'ultimo chilometro però adesso ci proviamo a scattare proviamo a scattare perché poi c'è la discesa eh però crolliamo miseramente crolliamo miseramente ci abbiamo provato vince insieme davanti alla Filippe Johan sen se fan con poi nelle viette l'arrivo per il nostro Kaiser undicesimo mannaggia quasi top 10 risultato risultatone risultatone comunque ragazzi sono contento è stata corsa durissima un più uno era troppo poco a questi livelli al primo tentativo con i migliori del mondo un più uno è troppo poco bisogna puntare scusate bisogna puntare una cosa di più alto come come valori però ragazzi il favorito cosa ne fa è finito quarantatresimo quindi insomma per la GDR qua è stato un toccasano avere Kaiser che ha fatto un ottimo risultato senza poter contare su aiuti esterni con forse quella qui quella quell'acqua presa però poi è arrivato diciottesimo quindi l'abbiamo messo dietro senza problemi qua è stato un arrivo proprio al photo finish al photo finish vince c'è chiesta della della Lidl track quasi totta che se graffè doma Lidl track King Simmons noi abbiamo undicesimi è un ottimo risultato infatti facciamo trentasette punti perché finisce del 2030 undicesimo eccezionale la fuga era 35 su 60 quindi più della metà quindi medio come valutazione ci dà un più 5% siamo soddisfazione manager totale e progressione già più di metà mancano meno di 100 punti per il livello 15 ottimo io direi ragazzi che ci possiamo salutare qui la pariginizza vediamo se farla vedere sicuramente beh lo sapete no Milano Sanremo obiettivo rosso ora se tanto mi dà tanto e arriviamo con una con una forma al 99 e un obiettivo più 3 quindi con la possibilità di essere come se fossimo in un effettivo picco di forma e avere un più 4 più 5 ci giochiamo più di un'occasione sul poggio molto più di un'occasione per fare bene detto questo io non mi sbilancio oltre il nostro Franz con queste statistiche vi dà il saluto al prossimo episodio ottima quasi top 10 alle strade bianche che era sicuramente molto più dura che una Milano Sanremo che ragazzi con uno scalapassi che era scarsissimo in pianura ci siamo già siamo giocati l'abbiamo vinta secondo me Franz può arrivare anche più fresco vediamo vediamo non dico nient'altro noi ci vediamo al prossimo episodio sicuramente vedremo qualcosa della pariginizia adesso vediamo se magari farò vedere tutte e otto le tappe magari farò un collage vedo come gestirmi la cosa detto questo io sicuramente vi do appuntamento all'episodio per la Milano Sanremo alla prossima ragazzi grazie